Un uovo che non abbia all'interno sorprese, ma prevenzione e sicurezza, con caschetti gialli che simboleggiano i lavoratori che si aiutano, con un caschetto giallo e uno rosso che rappresentano un lavoratore che sostiene il compagno ferito e un casco giallo e uno nero che rappresentano un lavoratore che sostiene i familiari che hanno perso un collega, tutto davanti all'impalcatura di un cantiere abbandonato. La sicurezza sul lavoro ha prima di tutto un valore che rispetta la dignità umana. Oramai è una tematica che va affrontata anche politicamente, in quanto i costi della sicurezza sul lavoro non devono gravare solo sugli imprenditori, ma deve essere una struttura più ampia a sostegno della sicurezza sul lavoro. Quindi anche da parte statale devono essere prorogati dei sostegni in merito a questa tematica. Quella delle vittime sul lavoro continua ad essere una strage nemmeno troppo silenziosa. Ogni giorno perdono la vita tre persone e l'anno scorso le denunce di infortunio sono state più di 55.000 e più di 1.200 le vittime. Non solo le malattie professionali denunciate superano le 55.000. La prevenzione costa, è vero, ma se proviamo a pensare ai costi che ha un infortunio sul lavoro, perché dietro un morto c'è una pensione, dietro un invalido permanente c'è una rendita e quindi è un costo importantissimo per la società che poi alla fine lo paghiamo noi. Oltre a chi ha perso la vita, ci sono anche persone con infortuni che lasciano pesanti postumi come quelle di Pasquale Padovano, unico sopravvissuto alla strage di Rinate del 2001, che si è svegliato cinque mesi dopo l'incidente e ha passato 14 mesi in ospedale. Quando il signor ministro disse che la sicurezza sui luoghi di lavoro è un lusso e che non ce lo possiamo permettere, gli ho detto tutto. Si sa che la mattina si esce per andare a lavorare, per guadagnare il padre per la famiglia e non si sa se si può tornare a casa, perché qua ogni giorno continuano a morire gente sui posti di lavoro. Siccome che il lavoro manca, una persona è costretta in qualsiasi modo ad andare a lavorare e poi ci rimette le penne. Non è possibile, se non interviene lo Stato a fare qualcosa per la sicurezza sui posti di lavoro, non si può andare avanti in questo modo qua.